Chiusi tra di loro, piedi appoggiati sul pavimento, abbastanza vicino ai glutei, spalle aperte, lontano dalle orecchie, in, alzo il bacino a soffitto in una linea da spalle a ginocchia, preso sui piedi, fuori, stendo la gamba destra in linea con il ginocchio sinistro, in, piede destro torno al pavimento, fuori stendo la gamba sinistra, in, piego e torno al pavimento, fuori, ginocchio destro si stende, sento bene gli adduttori che lavorano, in, fletto e abbasso, fuori, gamba sinistra, in, piego appoggio, fuori, destra, in, appoggio, fuori, sinistra, in, giù, fuori, destra, ginocchio una contro l'altra, in, piego, fuori, sinistra, bacino bello alto, in, giù, fuori, destra, non muovo niente a livello del bacino, in, giù, fuori, sinistra, in, giù, espiero e articolo vertebra dopo vertebra per tornare al pavimento, ottimo. A quattro zampe, mani perpendicolari sotto le spalle, leggermente più aperte, più indietro, dita in avanti, ginocchio perpendicolari sotto le anche, collo in linea, una linea dall'osso sacro alla testa, in, allungo gamba e braccio opposto, in estensione parallele al pavimento, fuori, torno a quattro zampe, in, gamba e braccio opposto, fuori, torno e continuo a cambiare, in, spalle lontane dalle orecchie, fuori, riallineo, in, sento le anche le spalle sempre sullo stesso piano, torno, cambio, la spalla di terra rimane immobile, non apro l'anca della gamba che si alza e continuo a cambiare, cercando un movimento fluido e costante, se mi facessero una foto al busto non si dovrebbe capire che gambe e che braccio ho alzato, bene, rotolo un po' avanti sulle ginocchia, staccando i piedi dietro e continuo da qua, in, addominali ancora più attivi, stacco gambe e braccio opposto, fuori, torno e cambio gamba e braccio, ogni disequilibrio è amplificato, per cui faccio ben attenzione a mantenere le due crescelliache sullo stesso piano e a non sbilanciare la spalla del braccio di terra, ancora un paio di volte, in, allungo gamba e braccio opposto in estensione parallele al pavimento, fuori, torno a quattro zampe, in, gamba e braccio opposto, fuori, torno, in, gamba e braccio opposto, fuori, torno e continuo a cambiare, in, spalle lontane dalle orecchie, fuori, riallineo, in, sento le anche le spalle sempre sullo stesso piano, torno, cambio la spalla di terra, rimane immobile, non apro l'anca della gamba che si alza e rilascia quattro zampe, ottimo!